Ormai mi capita sempre più spesso, ogni qualvolta vado in questa azione abbastanza, non mi capita di rato. E parto per andare a fare il Napoli, so che mi aspetta qualcosa di bello da vedere. E questo mi riempie d'entusiasmo, non è facile a 60 anni tra poco, Radio Carna che non ne ho fatte poche, però so che stasera a 18 al Castellani di Empoli vi provo un'altra emozione, vi provo un'altra emozione perché sono innamorato di questo sport e grazie al Napoli riuscirò a viverne ancora. Vedremo cosa succederà, domani sera sarò a San Siro, Milano-Atalanta, ore 20.45, gli appuntamenti con le radiocronache, ve li raccomando, sono sempre gli stessi, ore 18 oggi pomeriggio, Radio 1 Rai, tutto il calcio minuto per minuto, Empoli-Napoli, domani sera, ore 20.45, Stadio Giuseppe Meazza di Milano, Milano-Atalanta, Radio 1 Rai, tutto il calcio minuto per minuto, con la sigletta, tutto eccetera eccetera. Mi raccomando, seguitemi, a presto!